Fratelli e sorelle, la prima presidenza ha emesso seguente rapporto statistico riguardante la crescita dei membri e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2007. Numero delle unità della Chiesa, numero dei pali, 2790. Numero di missioni, 348. Distretti, 618. Rioni e rami. 27.827. Membri della Chiesa, numero totale dei membri, 13.193.999. Aumento dei bambini al di sotto degli otto anni durante il 2007, 93.698. Convertiti battezzati nel 2007, 279.218. Numero dei missionari a tempo pieno, 52.686. Templi. Il Tempio di Nukalofa nelle isole Tonga è stato ridedicato nel 2007. Templi in funzione, 124. Membri eminenti deceduti dopo lo scorso aprile. Presidente Gordon B. Hinckley, quindicesimo presidente della Chiesa, a 97 anni, il 27 gennaio 2008. Presidente James E. Faust, consigliere della prima presidenza e membro del Consiglio dei dodici apostoli. Sorella Ines Bernice Egan Hunter, vedova del presidente Howard W. Hunter, già presidente della Chiesa. Sorella Ruth W. Faust, vedova del presidente James E. Faust, consigliere della prima presidenza. Sorella Leanne C. Neunschwander, moglie dell'anziano Dennis B. Neunschwander, del quorum dei settanta. Sorella Eunice N. Kay, vedova dell'anziano F. Arthur Kay, già membro dei settanta. Sorella Janice R. Cannon, ex consigliera della presidenza generale della società di soccorso. Frederick Richard L. Warner, ex primo consigliere della presidenza generale della scuola dominicale. Grazie a tutti.